Proseguono senza sosta i lavori di manutenzione sulla statale 19ter dei ponti Ficarola e Massavetere a Caggiano. Un grande progetto per un investimento complessivo di 11 milioni di euro, che comprenderà anche un successivo intervento sul ponte Calabri. Per lunedì 30 settembre dovrebbero terminare le attività sulla sovrastruttura per il consolidamento del ponte Ficarola e poi si procederà alla pavimentazione e alla relativa segnaletica, nei tratti compresi fino al Calabri, interventi che, salvo condizioni meteorologiche avverse, si protrarranno fino alla fine di ottobre. Terminate queste attività, verrà finalmente rimosso il senso unico alternato sul ponte Ficarola, ma i lavori di Anas non si fermano qui a Caggiano. Nello stesso periodo, infatti, verranno eseguiti attività di nuova pavimentazione su tratti saltuari dell'arteria intercomunale per Tosa Caggiano, percorso alternativo utilizzato durante la chiusura del ponte Massavetere, necessaria per circa 45 giorni, in modo da effettuare sulla struttura il sollevamento degli impalcati e la sostituzione degli appoggi. In questo caso, Anas ha comunicato che la manutenzione del Massavetere e la rimozione del senso unico alternato avverrà entro fine anno e poi si interverrà sul ponte Calabri. Un grande progetto che sta procedendo in modo spedito, ma per gradi, in modo da non compromettere la viabilità sulla dorsale aulettese e allo stesso tempo consegnare presto strutture efficienti e sicure a coloro che percorrono quel tratto di strada.